Le macerie ora diventano tracciabili con il Sistri. Si tratta di una chiavetta USB e di una piccola scatola nera. Sono gli elementi che fanno funzionare il nuovo meccanismo di tracciabilità delle macerie derivanti dalla ricostruzione post-sisma. Il Sistri sarà attivo a partire dalla fine dell'anno grazie ad un accordo tra gli uffici speciali della ricostruzione e il Ministero dell'Ambiente che permetterà di tracciare passo passo i percorsi delle macerie. La rete del Sistri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ideato nel 2009 per informatizzare l'intera filiera del ciclo di gestione dei rifiuti speciali pericolosi urbani garantirà la copertura satellitare del tracciamento della rotta dei mezzi, un modello riconosciuto a livello nazionale. Sono quasi 3 milioni di tonnellate, infatti le macerie movimentate sino ad oggi non è inoltre escluso che il nuovo metodo di tracciabilità delle macerie non possa essere steso anche a comuni del nuovo cratere sismico. Di fatto parliamo delle macerie prodotte nei cantieri della ricostruzione per quanto riguarda tutta l'attività connessa al sisma del 2009. Sostanzialmente adesso con questo accordo che è stato raggiunto col Ministero dell'Ambiente la rete del Sistri ci garantisce la copertura satellitare per il tracciamento delle rotte dei mezzi. Continueranno gli operatori ad operare sul nostro sito dove inseriscono i dati e già lo stanno facendo dal 2012 con tutte le informazioni relative ai rifiuti e alle macerie legate ai cantieri della ricostruzione però a seguito dell'interruzione del servizio che prima ci forniva l'Aci noi riusciamo a reintegrare questo sistema con l'appoggio del Sistri. Il modello dell'Aquila, del monitoraggio delle macerie è un modello che viene riconosciuto a livello nazionale tant'è che siamo stati chiamati l'altro anno anche da Ecomondo per rappresentare proprio come funziona il meccanismo perché già andando sul sito degli uffici speciali ci sono praticamente tutti i dati dettagliati dello smaltimento delle macerie. Allora questo di oggi che viene rappresentato oggi praticamente è un passaggio successivo che riguarda in particolare la tracciabilità delle macerie che già è stata utilizzata, è stata resa operativa già da qualche anno, già nella fase commissariale. Questo è un passaggio ulteriore fatto concordando col Ministero dell'Ambiente perché praticamente fa sì che i dati che sono del monitoraggio sui siti degli uffici speciali sono così strettamente legati a quelli della tracciabilità delle macerie adottando questo sistema Sistri. 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 Sistri.